Ciao da Mediaplaza, sono felice di introdurre il nuovo guest, Alessandro Catanzariti. Grazie a te. Grazie a te anche a te, membro dell'Airridge Dei Mille. Per la prima volta, perché Dei Mille? C'è un significato particolare? Il uso del nome Dei Mille, presso il nostro scopo di dare un po' di storia italiana per i nostri clienti, che non solo in Italia, ma anche in altri paesi, in altri regioni del mondo, dove vendiamo i prodotti, dove vendiamo i prodotti, dove vendiamo i nostri fashions. E l'idea delle 1000 persone che hanno fatto la storia con Garibaldi e creato l'Italia in 1861, e la traccia, per creare un link tra questi ragazzi e l'architetura delle italiane, perché l'Italia ha fatto molti e piccoli, piccoli e piccoli, che vengono al mondo ogni giorno, cercando di portare i prodotti in Italia, e anche per fortuna la posizione della nostra nazione, che è molto benvenuta per alcuni dei fashions, di alimenti e di eccellenza, che ci rende molto bene conosciuti nel mondo. Un po' curiosità, vediamo i bagni, i bagni, i bagni, i bagni, che sono i vostri? Sì, abbiamo deciso di fare la sponsozione del 9 WCC, non solo con BOOF, ma anche con le nostre brande, ma per creare questi bagni specifici delegati, per circa 1000 persone che vengono a Torino, per scoprire il nostro paese, il nostro paese, e per dare loro una ricerca di chi siamo e cosa facciamo, e la forma che possiamo fare in un style made in Italia. Ok, qual'è il nuovo, o il futuro, il tuo brand? Sì, iniziando da Torino, che è anche la città in cui eravamo, e siamo molto, ovviamente, con la nostra città, quindi siamo molto felici e felici che il WCC sia in Torino, che sia parte di questo come sponso. in Torino? Sì, iniziando da questa prima storia di FLAGSHIP, che è stata open in novembre 2014, quindi sono 7 mesi che siamo open, ma abbiamo già trovato un buon sentimento da questo. Ora stiamo trasferendo in nuove città, e, ovviamente, stiamo cercando di nuovi partneri allo mondo, per essere distributori, e per portare le prodotti in Italia, che RG Miller crea. e, ovviamente, la nostra città, la nostra città, la nostra città, la nostra città, che pensi di questo? Beh, prima di tutto, questa è una molto buona opportunità per la città, per essere conosciuto da persone che vengono da tutto il mondo, persone che sono in negozio, quindi è una molto buona opportunità per B2B, per le persone che sceglierono, per fare un negozio, per fare un negozio insieme. e è molto bello, che è un evento molto grande come il WCC, che è postato da Torino, e la prossima sarà da Sydney, quindi è molto grande, è molto più grande, è molto più grande. E essere una delle città che ha postato il WCC, significa che Torino è crescendo questa reputazione, soprattutto dopo le Olimpics, e diventare una città molto ben conosciuta in tutto il mondo. Ok, questo è ok per noi, grazie, grazie molto, ringraziamo Alessandro, Catanzariti, ricordiamolo, cofondatore della Air Ridge dei Mille. Grazie mille. Arrivederci.